Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, la macchina che nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo navigatore copilota Christian J. Storfer ha vinto il Riri di Monte Carlo del 1984, l'edizione Centauria, l'uscita era numero 71 delle 110 previste per il completamento di questo splendido modello. Mentre faccio scorrere le immagini ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano e un grazie particolare ai miei abbonati che mi sostengono economicamente. Grazie a tutti ragazzi. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se darete un'occhiata alla playlist potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto e infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi può contattare privatamente, grazie. In questo nuovo numero la piastra di protezione con lo sportello vano batterie, eccolo qui. Ovviamente se fate così lui cade perché non è fermato da quest'altra parte. Io l'ho incastrato semplicemente. Vedete, se faccio così lui va all'interno, invece in realtà poi dovrà uscire così. Quindi ecco fatto. Questo è un pezzo tutto in plastica, verniciato molto bene, però non ci servirà in questa sessione di montaggio, quindi lo mettiamo da parte. Ve lo faccio solo vedere. Ecco qui. Ci occuperemo invece di ordinare i fili nella parte posteriore dell'auto. Fate anche attenzione a questo gancetto che abbiamo messo nell'ultimo montaggio, vi ricordate? Perché se ortate questo tubo succede che si spezza il gancio, quindi fate attenzione. Metto il modello così e mi attengo semplicemente alle istruzioni. Allora, guardate. La prima serie di fili, che è il cavo bianco e grigio con lettera D, eccolo qui, va fatto passare in questo foro. Tutti andranno fatti passare in questo foro, ma gli altri, oltre ad attraversare questo foro, andranno anche da quest'altra parte. Quindi iniziamo con il cavo lettera D con la sua relativa prolunga. Non vi sbagliate e in più fate attenzione, perché quando tirate il cavo rischiate di disinserirlo dal ricettore. E se questo accade e non ve ne accorgete, una volta che montate il modello non vi funziona poi qualche cosa, quindi fate attenzione. Quindi, in questa foto che è forviante, vi inganna, vi fa vedere che il tubo, vedete il tratteggio, deve passare sotto questo serbatoio grigio. Non passerà mai da lì il tubo, cioè il tubo, chiedo scusa, il filo, con la lettera D, quello che ho fatto vedere adesso, deve passare qua in mezzo e girare così. E infatti, se andiamo a vedere questa foto, non passa di qua come nella prima che avete visto, questa, ma passa a fianco qui di questa paratia, questa qui. Gira di qua e va dietro la ruota, ok? Adesso vi faccio vedere. Quindi, questo lo faccio passare così. Adesso vi faccio vedere. Questo cavetto d'acciaio l'ho sposto. Ancora non sappiamo dove andranno attaccati, forse moriranno qua dietro. Allora, guardate. Adesso questo io lo spingo sotto il cavetto d'acciaio, con l'aiuto, in questo caso, di un cacciavite. Quindi faccio questo lavoro qui. E lo faccio andare sotto questo pezzo. Però, quando fate questo lavoro, come vi dicevo prima, dovete fare attenzione che non vi si stacca il ricettore qui. Quindi poi allungate un po' il filo, lo tirate un po' in dentro, e vi accertate che sia inserito il ricettore D. Guardate adesso. Vedete il filo? Aspettate. Il filo è là sotto. Deve passare sotto il cavetto. Adesso lo devo far passare sotto il cavetto. Sotto il cavetto d'acciaio. Vedete che prima c'è il filo elettrico e poi il cavetto. Il cavetto deve essere sopra. Quindi devo con il cacciavite farlo andare sotto il cavetto. Ecco. Non so se si vede. Aspettate che ingrandisco l'immagine. Così. Passa sotto il serbatoio. E esce lì. A questo punto prendo questo e lo metto qua, dove ci dicono loro. E questo è il primo passaggio. Vedete? Esce da qui. Adesso passiamo agli altri cavetti. quindi prendo l'etichetta B che è quello bianco e blu con i due led rossi. Ok? E questo lo devo far passare ovviamente nel primo foro e poi, come vi ho detto prima in questo foro qua. Ecco. Così. poi mi dice di prendere il cavo con la lettera H e poi il cavo con la lettera P. Iniziamo quello con la lettera H che è quello bianco o chiedo scusa grigio e nero dove avete i led gialli. Fate passare i cavi per non farli intrecciare sotto. ve ne accorgete ogni cavo deve essere libero prima di essere inserito. Vi viene da solo poi. La sequenza ordinata vi viene da sola. Quindi lettera H eccola qui. Io i led non voglio mai toccarvi ma qui diventa quasi difficile. e abbiamo detto dopo la H la lettera P la lettera P e il cavetto verde e bianco con i due led trasparenti. Anche questo va fatto passare sotto in maniera ordinata gli altri non si devono accavallare i cavi. Non è che il modello non funziona se si accavallano i cavi è solo un fatto più ordinato di distribuzione tutto lì. ecco qua quindi in questa prima fase perché ce n'è un'altra la seconda e l'ultima ho passato il cavo con la lettera B di Bologna poi il cavo con la lettera H di Hotel e il cavo con la lettera P di Palermo quindi ne ho tre questi nella pagina 284 mi dice di prendere ancora due cavi quello con la lettera J e quello con la lettera O la J è questo qui cavo grigio e rosso con un led giallo così e poi ho detto la lettera O cavo verde e nero vedete questo è accavallato lo faccio passare sotto così ecco alla fine passiamo cinque cavi adesso però vado a controllarmi che non abbia sfilato e vedete questo ad esempio il J era un po' uscito dalla scheda quindi attenzione controllatevi tutti che siano ben inseriti perché è facile che tirandoli possano un po' uscire bene adesso prendo qualcosa per ordinarli e sono a posto questo picco elastico è l'ideale per mantenerli tutto in maniera ordinata ecco qui e anche questo montaggio anche se qui non abbiamo alla fine montato nulla è terminato ma abbiamo comunque ordinato bene ecco guardate vi faccio vedere una cosa questo è un piccolo errore che non pregiudica nulla è soltanto un fatto di ordine vedete il cavetto verde avrei dovuto farlo passare sotto tutti questi allora semplicemente lo vado a staccare e lo passo sotto perché è più ordinato tutto lì non si intreccia nessun filo ecco vedete tutti sono liberi questo va bene così questo si va bene perché questi passano sotto va bene ok bene il montaggio anche di questo numero ho detto di nuovo montaggio ma montaggio non è diciamo abbiamo abbiamo ordinato i figli ecco abbiamo messo in maniera ordinata è così terminato e grazie a tutti del vostro preziosissimo tempo ecco qui il modello guardate che splendido quante cose ci sono e quante altre che andremo a metterne vi basterà guardare il fascicolo numero uno dove si vedono le parti anche tra le tra le altre parti come quella posteriore la parte del cruscotto l'abitacolo si vede anche il sottocofono quindi il motore andate a vedere quante cose ancora mancano per questo splendido motore e ripeto come ho detto in altri video peccato che la parte posteriore dei sedili non abbiano fatto non l'abbiano fatta in finto kevlar come questo che sarebbe venuto benissimo ma hanno deciso di farlo in plastica nera e basta ma nella realtà io non sono un intenditore ma mi hanno detto che erano in kevlar bene ragazzi grazie a tutti del vostro preziosissimo tempo un saluto e un abbraccio a voi un saluto a tutti i vostri cari più cari da Michele e il mio gatto tigrato europeo Michelangelo che ha deciso di non venire in questo video e grazie a tutti adesso vado a prepararmi il montaggio della Lancia Delta HF Livrea Martini Racing di Tiziano Siviero e Michi Biasion e la Ferrari 312 T4 di Gilles Villeneuve Formula 1 bellissima e storica ciao a tutti ragazzi grazie a tutti